Cambio ai vertici militari della Federazione Russa. Il presidente Vladimir Putin ha deciso e così è stato rimosso il ministro della difesa, Sergei Shoigu, e nominato a capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale al posto del segretario Nikolai Patrushev. Alla guida della difesa russa e nel pieno dell'invasione militare in Ucraina è stato scelto un civile, Andrei Beluzov, 65 anni, già vice primo ministro e a lungo consigliere economico di Putin. Sul più aperto all'innovazione ha motivato il Cremlino. Beluzov ha promesso di lavorare per fornire alloggi a chi partecipa all'operazione militare speciale in Ucraina, ha sottolineato la necessità di occuparsi della loro assistenza sanitaria e di risolvere i problemi burocratici che complicano l'assegnazione di benefit al personale militare. Dichiarazioni rivolte ai militari russi in campo per scelte tutte da decifrare. Alcune settimane fa uno dei vice di Shoigu, Timur Ivanov, è stato arrestato con l'accusa di corruzione, ma per l'ex numero uno alla guida della difesa lo spostamento è al Consiglio di Sicurezza Nazionale, 38 membri di cui 12 sono il vertice della federazione russa, presidente e primo ministro e i presidenti delle due Camere, per un fronte interno altrettanto strategico per Vladimir Putin.